Ciao e bentornato su Italianunabito. In questo video parlerò di come scegliere il paio perfetto di jeans in un guarda roba classico, quindi che comprenda giacche, pantaloni eleganti e cappotti. Come sempre partiamo da una breve storia dei jeans, come sono nati e perché sono arrivati fino ad oggi e in seguito analizzeremo quali sono i modelli presenti sul mercato e il colore giusto da scegliere. Sebbene il giorno d'oggi i jeans vengano considerati alla base dell'abbigliamento americano, statunitense, in realtà la loro storia comincia proprio qui, in Italia. Già nel 700 infatti, nella città di Genova, veniva commercializzato un tipo di fustagno di colore blu, quindi colorato con indaco, un tessuto molto resistente e grezzo che veniva utilizzato soprattutto dal personale nei porti o che dovesse fare un lavoro molto intenso a livello fisico, quindi avesse bisogno di un capo che non si stroppicciasse, che non si rovinasse, soprattutto che non si rompesse durante l'attività fisica. Infatti anche il nome blu jeans deriva da blu de jen, cioè blu di Genova. Facendo un salto avanti nel 1800, vediamo che circa nel 1850 inizia la corsa all'oro in California. Quindi in quel tempo c'era la necessità di avere degli abiti che fossero rigidi e potessero soddisfare tutte le necessità dei cercatori d'oro. In questo senso nasce Levi Strauss, che è la compagnia, l'azienda che ha creato il jeans come lo conosciamo oggi. Infatti questo tipo di tessuto abbinato a dei particolari rivetti in rame che vengono posizionati nei punti più sotto sforzo, come le giunture delle tasche e delle varie cuciture, era proprio un capo perfetto per questo tipo di lavoro, in quanto un tessuto molto resistente e difficilissimo da rompere. Passando quindi da una necessità di fatto un capo veramente da lavoro, esso viene poi trasposto nella società contemporanea e nella società diciamo più cittadina e più urbana, circa negli anni 50-60 del 900. In quel tempo infatti grazie anche alle varie rivoluzioni culturali e a icone di Hollywood che si fecero protagonisti di questo capo, tra le altre citiamo Marlon Brando e James Dean che attraverso i loro film hanno dato questa immagine di ribellione, di andare contro le regole e tutti questi valori venivano perfettamente incarnati dal jeans. Alla fine degli anni 60 infatti il jeans viene riconosciuto come il perfetto pantalone per i giovani, per i giovani ribelli che si volevano ribellare al sistema imposto dai genitori. Lo vediamo diffondersi in tutto il mondo in modo abbastanza trasversale. Infatti dagli anni 2000 possiamo dire che veramente il jeans è un prodotto internazionale, è sicuramente un fatto molto importante perché nessun altro capo, se ci pensate, ha avuto così tanto successo in tutto il mondo, trascendendo addirittura culture, religioni e paesi molto differenti tra loro. Dopo aver visto un po' di storia andiamo a capire quali sono le tipologie di vestibilità che abbiamo quando siamo di fronte a un jeans e qual è il colore più adatto per appunto un guardaroba classico. Per prima cosa analizziamo le vestibilità. Le vestibilità possono di fatto essere di tre tipologie. Possiamo avere uno skinny fit, un regular fit e uno slim fit. Lo skinny fit è quello che io non consiglio. È una vestibilità molto stretta, molto aderente al corpo e che permette anche poco movimento e sicuramente non rientra tra i canoni di eleganza classica e diciamo senza tempo che mi propongo di portare avanti su questo canale. Per quanto riguarda un approccio classico invece mi concentrerei più sullo slim fit e sul regular fit. Ecco allora, lo slim fit di fatto è una versione un po' più asciuta del regular fit che è, si può vedere come la base, quindi regular fit è il taglio più classico mentre lo slim fit è quello un po' più moderno, un po' più sciancrato. Lo slim fit infatti lo consiglio a chi ha una corporatura molto magra e soprattutto a chi preferisce anche un tipo di vestibilità un po' più aderente. Invece il regular fit è quello che io preferisco, quello che io indosso sempre, che è un taglio un po' più dritto, un po' più classico, quindi meno svasato verso il fondo, che nella mia opinione è anche quello un po' più senza tempo perché ti permette di non seguire le mode passeggere ma di identificare una tipologia di vestibilità che ti piace, che ti stia bene, ma allo stesso tempo che possa adattarsi anche negli anni a venire. Uno dei problemi che per esempio riscontro sugli slim fit sono quando indosso delle calze lunghe, se indosso delle calze sopra il polpaccio il pantalone slim fit mi darà fastidio perché stringerà la gamba nella parte bassa e quindi non permetterà bene un movimento fluido. Invece regular fit ti permette di fare questa cosa, quindi usare qualunque tipo di calza e anche nella parte superiore comunque in genere ha una vestibilità un po' più regolare, quindi la vita è leggermente più alta, mentre nello slim fit di solito è un po' più bassa. La vita più alta, come anche nei pantaloni sartoriali, è un elemento importante perché si adatta molto meglio a una giacca o anche a un tipo di maglieria un po' più elegante, mentre invece la vita bassa tende ad essere un po' più sportiva. Passiamo al colore invece. Il colore è una cosa abbastanza soggettiva. In generale direi che i colori principali possono essere due, quello chiaro quello scuro. In realtà ci sono tante tipologie di chiaro che possono essere più chiari o meno chiari però di fatto questo. Il jeans scuro si differenzia da tutti gli altri in generale perché o è blu scuro o è addirittura nero. Come sempre non consiglio nero perché non è un colore molto versatile e andrei invece sul blu, sia nelle tonalità chiare che nelle tonalità scure. Le tonalità scure sono più formali, questo è perché il colore scuro, come anche negli abiti, è un colore più formale, quindi questo sarà da preferire nel caso in cui indosseremo qualche giacca, qualche capo di maglieria, una camicia e in questo caso sicuramente lo scuro ci dà molte più possibilità di essere indossato correttamente. Il jeans chiaro invece è molto più sportivo, soprattutto più chiaro è più sportivo, tranne però il caso del bianco perché il jeans bianco invece può essere molto elegante nonostante sia un colore chiaro. Il jeans bianco infatti si adatta a qualunque tipo di abbinamento possibile e infatti è davvero un capo che ti consiglio di provare se non l'hai già. Quindi ricapitolando i capi su cui ti consigliare di investire sono il jeans scuro, un blu scuro quindi ben profondo e che si adatti bene anche quando indossi camicia o cose leggermente più formali, invece un jeans chiaro da per esempio portare con le sneakers o con delle magliette, magari una giacca, un giaccone molto sportivo eccetera. In commercio possiamo trovare vari tipi di denim, soprattutto si dividono in due categorie, il denim o 100% cotone oppure quello con elastane. Bene, in un'ottica classica ti consiglio sempre di scegliere il 100% cotone perché è il vero denim di qualità invece quello con l'elastane è tutta un'altra cosa. Sicuramente sarà un po' più comodo ma in realtà se il denim è ben utilizzato e ben vissuto avrà una comodità e anche un aspetto molto più raffinato ed elegante. Per ultima cosa vorrei fare una distinzione tra alcuni termini che incontrerai quando andrai a acquistare dei jeans, soprattutto in quelli di alta qualità. Allora i due termini da sapere sono self edge o cimosato e raw denim. Il denim cimosato, quindi il jeans self edge, è di fatto una qualità superiore dei jeans perché il tessuto, quindi il rotolo di denim che viene steso e poi successivamente tagliato per creare il pantalone, viene prelevato da una sola pezza di tessuto, quindi da una pezza di tessuto si ottiene un jeans. Questo ci fa subito capire che sicuramente il tessuto e il prodotto finale sarà di un'alta qualità perché il tessuto è ben selezionato e viene fatto a un costo molto più alto, mentre invece nei denim, nei jeans normali questo processo viene ovviamente allungato molto di più e il pezzo di tessuto è molto più grande in modo tale che possano essere tagliati vari pantaloni uno dietro l'altro. La presenza del self edge o cimosa la trovi risvoltando il pantalone all'interno dal basso e troverai una sottile linea rosso o comunque di un altro colore che va a determinare che la cucitura è stata fatta da proprio una pezza singola perché quello è il termine e l'inizio del tessuto. Quindi la prossima volta che guardi un jeans in un negozio controlla questa cosa per capire se è un self edge oppure è un pantalone jeans classico. L'altro termine è il raw denim o denim grezzo. Questo vuol dire che il denim di fatto il tessuto del jeans prima di essere tagliato e poi confezionato non viene lavato perché solitamente nei tessuti prima di confezionare sia i jeans ma anche tantissimi altri capi di abbigliamento come anche le magliette in cotone i tessuti le pezze di tessuto proprio vengono lavate in modo tale che nel lavaggio poi diciamo in carico al consumatore questo non abbia poi dei problemi di restringimenti o di deformazioni dovute al lavaggio. Questa è una caratteristica che magari a qualcuno potrà sembrare controintuitiva ma in realtà è molto ricercata dagli amanti del denim perché questo pantalone si adatta perfettamente al tuo corpo e prende addirittura le striature e le ombre di come il nostro corpo si piega quando si siede per esempio quando cammina infatti il jeans viene addirittura in alcuni lavaggi lavato con determinate tecniche per farlo sembrare più usato o meno usato ecco queste diciamo schiariture che vengono effettuate sul pantalone nel raw denim non ci sono all'inizio quando lo acquistiamo sarà perfettamente unico unito successivamente quando lo porteremo lo indosseremo e lo laveremo questo prenderà delle caratteristiche uniche che saranno solamente uguali in ogni singolo capo quindi questa è una caratteristica che tanti amanti del denim ricercano perché sicuramente è un indice di qualità e soprattutto di personalizzazione unica. Grazie per aver guardato come sempre lascia un mi piace fammi sapere quello che ne pensi sotto il video mi raccomando iscriviti al canale perché tanti utenti che guardano i miei video poi non si iscrivono alla fine e questa cosa invece serve sia a me che a voi per far crescere sempre più il canale portare sempre contenuti di qualità maggiore quindi lascia un mi piace iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video